Nilde Jotti, come pochi altri, figura emblematica del Novecento di quel secolo breve e le cui date coincidono con la sua stessa biografia. Dalla formazione cattolica all'impegno militante nel PCI, alla svolta postcomunista del 92, dalla laurea alla cattolica di Milano ai primi coinvolgimenti nell'antifascismo e nella resistenza, dall'elezione all'assemblea costituente alla partecipazione diretta alla stesura del testo costituzionale, alla lunghissima attività parlamentare fino alla presidenza della Camera dei Deputati. Un percorso raccontato da Luisa Lama, studiosa di storia delle istituzioni pubbliche dell'Università nel Novecento italiano, all'interno del volume dal titolo Nilde Jotti, una storia politica al femminile, con un'introduzione di Livia Turco. Il testo di 288 pagine, appena uscito per Donzelli e editori, sottolinea anche il contrapunto privato alla vita pubblica della Jotti, compagna di Palmiro Togliatti, una dimensione privata vissuta con schiva dignità e con consapevole coraggio. Il libro è stato presentato ieri a Potenza, nella Sala degli Specchi del Teatro Stabile, nell'ambito di un evento organizzato da Pasquina Bona, presidente dell'Assemblea regionale del PD, e Lucia Sileo, presidente dell'Assemblea del PD di Potenza, in collaborazione con la Fondazione Nilde Jotti, alla presenza della sua presidente Livia Turco. L'occasione è molto partecipata, visto l'illustrazione del progetto della Fondazione. Il recupero di figure centrali della vita politica italiana, in questo caso femminile, può passare attraverso questi libri, ha dichiarato Pasquina Bona. Dopo il saluto di Lucia Sileo, è intervenuta Livia Turco, che ha sottolineato l'impegno del centro-sinistra lucano, soffermandosi sull'analisi del libro e chiudendo con una frase. Le donne hanno nelle loro mani la possibilità di costruire una nuova Italia. Sono le loro competenze professionali, la loro moralità, la tenacia, il loro sguardo verso il futuro a renderle attrezzate, a costruire le riforme necessarie nel nostro tempo e a essere classe dirigente del nostro paese. Il ricordo di Nilde Jotti è vivo e la Fondazione lavora proprio in suo nome.